Grazie Don Ben, grazie della presentazione, grazie dell'invito. Io sono veramente molto onorato di essere con voi questo pomeriggio. Posto che, e quanto Don Ben hai detto poco fa riguardo a questa crisi che ci ha travolto tutti quanti e ci ha travolto letteralmente da un giorno all'altro, la condividiamo tutti quanti alla stessa maniera, chi più chi meno. E dire questo non è banale perché nella misura in cui tutti quanti condividiamo alla stessa maniera evidentemente ci rendiamo conto che apparteniamo a che cosa? Non soltanto ad un'unica famiglia perché sono tutti termini con i quali, per dire, usare un termine che era molto caro a Monsignor Nuzio Garantino, con questi termini ci facciamo i gargarismi e una volta che li abbiamo fatti li abbiamo utilizzati e via dicendo. Ma i termini hanno un significato, cioè il significato della rete, ne parlavo proprio ieri ad un'attestata giornalistica per me, ha il significato evangelico, non il significato della rete, internet e via dicendo. Il significato evangelico di quella rete che per poter assolvere al suo compito ha necessità certamente di essere buttata in mare, però ha necessità di un costante monitoraggio, un costante, diciamo così, aggiustamento di quelle che sono le maglie. Pienamente consapevoli che ciò che fa la nostra rete sono le persone, sono in questo caso i direttori, naturalmente i direttori diocesani, ma i direttori e tutti gli animatori delle caritas parrocchiali. Proprio per questo motivo io tutte le settimane mandavo un piccolo messaggio per la domenica che cercavo di prendere e di applicare a me prima di tutto dal Vangelo oppure dalle letture della domenica, di modo che potessimo tutti quanti avere un comune sentire. È un comune sentire che parte appunto dalla parola di Dio. Ed è dunque giusto ciò che dicevi, che ciò che ci caratterizza è certamente l'impegno a favore delle persone, ma non è un impegno qualsiasi. Non è come più di una volta ci ripetiamo perché lo abbiamo appreso, non è semplicemente filantropia, ma è un qualcosa che nasce dal nostro essere Chiesa, dal mandato appunto che ci è dato dalla Chiesa stessa. Quindi il titolo che mi è stato affidato per questo incontro, Caritas parrocchiale e la sua missione, ecco, apre davanti a noi un grande scenario, uno scenario che è composto dai termini stessi che compongono questo titolo, la Caritas, la parrocchia e la missione. La Caritas sappiamo benissimo che per poterla definire non sarebbe sufficiente tutta la sera per comprenderlo. Però una cosa molto importante che ci ribadiamo, che è praticamente quello che abbiamo appena ripetuto, che la Caritas non è un'associazione, non è una cooperativa, non è probabilmente tutto ciò che in questi giorni molti giornalisti stanno dicendo, la Caritas insieme ad altre associazioni ha fatto così. Allora, ripetiamo sempre che la Caritas non è un'associazione, ma la Caritas è espressione di Chiesa, così come la parrocchia è espressione della Chiesa nel territorio. Non c'è nessun'altra entità all'interno della Chiesa che, come dire, evidenzi come la parrocchia il territorio in quanto tale. Proprio in questo periodo molto spesso si è parlato di territorio e quindi si chiama quasi in ballo la parrocchia. Dice la Caritas è stata fin da subito presente durante questa crisi. Certo che la Caritas è stata presente da subito in questa crisi, ma non perché noi ci siamo spostati, ma in quanto la Chiesa c'era già, dice presenza quindi la Caritas. Se non dice presenza la Caritas è la parrocchia, non esprime effettivamente quello che è. Quindi non è possibile capire la Caritas e non all'interno della Chiesa. E quindi non è possibile capirla al di fuori della sua missione. La missione della Chiesa, noi lo sappiamo, è l'annuncio del Vangelo. È l'annuncio del Vangelo. Ma annunciare il Vangelo non significa annunciare, dire, raccontare delle parole, ma dire, annunciare, testimoniare una persona, la persona di Gesù Cristo. La missione della parrocchia, dunque, è l'annuncio del Vangelo. Ma cosa significa, noi potremmo dire, annunciare? Annunciare, lo abbiamo sentito più di una volta, soprattutto in questo periodo pasquale, significa essere testimoni. Colui che annuncia è un testimone. È colui che ha visto, colui che ha toccato, colui che ha provato. Essere testimoni dell'amore di Dio per noi. Sono tutti enunciati, che più di una volta ci siamo ripetuti, anche adesso mettiamo sul piatto della bilancia, davanti alla nostra considerazione, per poi arrivare anche a poterli sedimentare bene all'interno della nostra esperienza. Essere quindi testimoni dell'amore di Dio. Si è testimoni, ripeto, quando si è visto, quando eri presente, e quindi puoi attestare descrivendo anche dei particolari. E praticamente la missione, in questo caso, del testimone è quello di dire ciò che lui ha provato, non ciò che altri gli hanno raccontato, perché altrimenti non sarebbe un testimone, sarebbe un riportatore di racconti o di esperienze, come sappiamo per esempio anche dai tribunali. Il testimone è proprio questo. Della testimonianza della carità è un termine che spesso noi riportiamo e noi ripetiamo. Detto questo, ecco io non posso non fare riferimento, dopo aver quasi quasi detto semplicemente i termini della questione del titolo, cioè Caritas, parrocchiale, la sua missione. Detto questo io non posso non fare riferimento a quello che sarebbe dovuto essere il convegno nazionale di quest'anno delle Caritas parrocchiali, delle Caritas diocesane, cioè carità e missione. Vi ricordate? L'avevamo detto e sembra passato un periodo enorme, perché quel convegno l'abbiamo tenuto sospeso, speriamo di poterlo fare, se non si potrà fare comunque celebreremo lo stesso al prossimo anno i 50 anni della Caritas italiana. Il titolo comunque era Carità e missione. Ecco, alla luce dell'esperienza di questi due mesi, appena trascorsi, acquista maggiore veridicità espressore il titolo dato a quel convegno. E mi spiego meglio. Nella lettera che avevo spedito alle Caritas diocesane, proprio il 5 febbraio scorso, stava per scopiare la pandemia, scrivevo questo pensiero. La sensibilità di una chiesa missionaria è, come ci ricorda Papa Francesco, un dato spirituale e mentale. Quindi, la sensibilità di una chiesa missionaria è un dato spirituale e mentale, prima ancora che geografico. Cioè, non significa, ecco, uno è missionario perché va, no, perché ha nella suo spirito e nella sua mente qualcosa di forte, quindi all'interno del suo essere, che poi non può praticamente che esprimersi all'interno di quello che noi, soprattutto in questo periodo, identifichiamo assolutamente con tutto ciò che tu prima hai detto, ben, è che noi siamo soliti dire con fantasia della carità. Che cosa è la fantasia della carità? Non è l'invenzione mentale, non è l'invenzione mentale di quel che prima facevamo e adesso non possiamo fare, adesso dobbiamo assolutamente cercare di fare. Sì, probabilmente è anche quello, ma se fosse soltanto quello sarebbe ben poco. Non lo chiameremo fantasia della carità, lo chiameremo semplicemente fantasia nell'organizzare qualcosa. Ma la fantasia della carità dice quello che in altri termini si dice la fantasia dell'amore e qui esistono tante riflessioni degli innamorati, uno che è innamorato. Tanto più è lontano dall'oggetto, che può essere appunto la persona, dall'amato o dall'amata, tanto più l'amore cerca canali per arrivare all'oggetto del suo amore. La fantasia della carità non è altro che questo. Nella misura in cui, noi lo abbiamo provato soprattutto in questo periodo, nella misura in cui molte cose ci vedevano impedite, tanto più invece noi abbiamo cercato, attraverso appunto la fantasia della carità, di poter poi i termini giornalistici oppure della comunicazione, si dice di rimodulare quello che poteva essere i nostri servizi. Una cosa molto importante abbiamo capito in questo periodo, che il Signore comunque ci stava dicendo qualcosa, che il Signore ci stava parlando, e sempre questo ce l'abbiamo ripetuto e ce lo ripetiamo ogni qual volta ci troviamo davanti ad un'emergenza. Che cosa il Signore mi sta dicendo? Come possiamo trasformare questo momento di criticità, come possiamo trasformarlo in opportunità? Ecco, e all'inizio, bene, tu hai detto che mai come in questo periodo, probabilmente ci si è trovati, prima ci si era trovati per confrontarci, per verificarci, per fare una sorta di manutenzione in vista di un rafforzamento e di una continua, posso dire anche tessitura di quella rete, che in questo caso è la Caritas all'interno della Diocesi di Roma. Perché? Perché la rete deve pescare assolutamente qualcosa. E che cos'è che deve pescare? Deve pescare i frutti della carità di Cristo. Ecco, quindi, dicevo, è un dato spirituale e mentale, prima ancora che geografico, non andare, certamente si va, sì, ma prima di tutto è un essere per poter esprimere la fantasia della carità. Ecco, nasce tutto questo dal sentire l'incarnazione, la Chiesa missionaria nasce dal sentire l'incarnazione e la salvezza avuta come condivisione. la fantasia della carità non nasce da altro, nasce da avere la piena consapevolezza di essere, di avere la salvezza di Gesù Cristo che si è incarnato e che ha dato la sua vita per noi, che passa attraverso la mia esperienza, attraverso tutto ciò che io posso sentire, tutto ciò che io in questo momento posso assolutamente, non posso non trasmettere nel mio ministero. E questo si traduce poi con uno stare accanto ad ogni persona e condizione umana, facendosi carico, non sentendosi estranei, soprattutto nei confronti dei più poveri. Proprio da questo discende l'impegno di prossimità della Chiesa verso le fragilità. Ecco, proprio per questo motivo la Caritas, come ben sappiamo, nasce secondo il volere di Paolo VI a seguito della rinnovata visione della Chiesa, è bene che ce lo ripetiamo, anche perché poi tu l'hai detto all'inizio, toccando diverse corde, proprio perché nessuno deve sentirsi demandato personalmente, ma deve sentirsi come parte di un corpo, parte ecclesiale. Nasce secondo una rinnovata visione della Chiesa, che è la Chiesa Comunione, dove tutti i suoi membri, i membri della Chiesa, sono responsabili delle tre funzioni fondamentali della Chiesa, dell'annuncio della parola di Dio, della celebrazione e della testimonianza della carità. Da qui nasce appunto lo statuto di Caritas Italiana, ma nascono i diversi statuti delle Caritas Diocesane, così come mi è stato trasmesso anche della Caritas Parrocchiale, della Diocesi di Roma, dove è detto che la Caritas Parrocchiale è l'organismo pastorale istituito per animare la parrocchia, con l'obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza della carità, non solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva della Chiesa. Quindi è molto importante sentire questo, la parrocchia come Chiesa, ma soprattutto come comunità. Come comunità. Più di una volta io racconto questa esperienza, che anche questa parola, questo termine comunità, oggi si utilizza tantissimo e forse si è perso anche il senso profondo di ciò che significa comunità. Racconto un'esperienza che mi è capitata qualche anno fa in seguito alla crisi del Medio Oriente, laddove nella pianura di Ninive si avevano praticamente una serie di fuoriusciti a causa della guerra scoppiata lì da parte dell'Isis e via dicendo. Ad Erbil ho incontrato l'allora esule, vescovo della città di Mosul, al quale mi raccontava tutte le vicissitudini che c'erano state e io stavo per formulare una domanda che partiva così, ma la comunità internazionale, io non ricordo quale potesse essere in quel momento la mia domanda, però Monsignor Nona, allora adesso poi, proprio perché lui parlava molto apertamente, aperti sverbi se lo hanno mandato in Australia, lui mi interruppe immediatamente e mi disse la comunità internazionale, mi vuoi dire dov'è la comunità internazionale? Non esiste la comunità internazionale, esiste una cozzaglia di stati che vengono, che si reggono, sono tenuti assieme semplicemente da un fatto che non è economico, ma è semplicemente finanziario. Ecco, mi ha veramente molto colpito questa definizione che ha dato Monsignor Nona in quel periodo della pseudo comunità e mi sono chiesto, ma qual è l'entità che tiene unita la comunità ecclesiale? Che cos'è che tiene unita la comunità ecclesiale? O peggio ancora, l'altra domanda è esiste la comunità ecclesiale? E proprio in quel momento Papa Francesco scriveva l'Evangelii Gaudium, oppure l'Evangelii Gaudium ha questo bel numero che ci aiuta tantissimo nel nostro discorso e nella nostra animazione della comunità parrocchiale e aiuta la Caritas anche ad essere animativa con gli strumenti dei segni che sono dar da mangiare agli affamati eccetera eccetera, andare incontro a quelle che sono le esigenze, però essere animativa. Dice il numero 207, qualsiasi comunità della Chiesa, io mentre leggevo questo numero anche in ordine a quello che raccontavo prima di Monsignor Nona, facevo anche la considerazione che Papa Francesco avrebbe potuto dire anche, avrebbe potuto omettere della Chiesa, ma qualsiasi comunità, Tukur, va bene lo stesso, qualsiasi comunità della Chiesa però, nella misura in cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi creativamente e cooperare con efficacia affinché i poveri vivano con dignità e per l'inclusione di tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione, benché parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente finirà per essere sommersa dalla mondanità spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con riunioni infeconde o con discorsi vuoti. Questo qui, secondo me, questo numero 207, per quanto riguarda il lavoro di Caritas, è uno dei capisaldi dell'Evangeligadium che dovremmo ricordarci, è uno dei, e anzi, è il documento fondamentale di tutto il Magistero di Papa Francesco, non perché lo dica io, ma perché lui stesso lo ha detto e poi lo ha riconsegnato alla Chiesa italiana in occasione del convegno ecclesiale di Firenze. Quindi, noi all'interno della comunità della Chiesa a tutti i livelli, io parlo a livello nazionale, parlo a livello diocesano, a livello parrocchiale, qualsiasi comunità della Chiesa in cui pretenda di starsene tranquilla. Starsene tranquilla significa, beh, non mi interessa, oppure, e ci sono, c'è il gruppo Caritas, ricordiamoci, nel vostro organigramma, nel vostro statuto, nel vostro regolamento e gestito, è un organismo pastorale, non è semplicemente un gruppo, ma è un organismo, l'organismo è un collettore, possiamo dire, di tante realtà, un collettore a cui affluiscono e fanno riferimento anche gli altri uffici e se la Caritas ha un ufficio, non è un ufficio comunque, non si esaurisce nell'ufficio, è un organismo dove possono confluire anche tanti altri uffici, l'ufficio della catechesi, l'ufficio della liturgia e via dicendo, i gruppi giovanili, ecco, a proposito di gruppi giovanili, posso raccontare anche l'esperienza di alcune Caritas, la prima Caritas che mi, Dio Cesana che mi ha raccontato questa esperienza è che in questo periodo di pandemia gli over 65 sarebbero dovuti rimanere a casa sia per tutela personale come anche per tutela dei propri familiari, però paradossalmente, mi diceva il direttore della Caritas di Rimini, paradossalmente noi abbiamo avuto un incremento di personale giovane che proprio in quel momento si era messo a disposizione per esprimere quello che è noi diciamo un volontariato e sono i ragazzi i ragazzi della della pastorale giovanile, gli scout e gli appartenenti a diverse a diverse associazioni via dicendo. Anche questo qui è stato un modo per capire che cosa il Signore ci stava dicendo durante questo periodo ripeto il diacono Mario della Diocese di Rimini ma ci sono tantissime esperienze forse anche la vostra ma credo proprio di sì da quello che mi è stato che mi è stato accennato poco fa ecco cosa la fantasia della carità ha saputo in questo momento ha saputo cogliere per per poter mettere in atto tutto quanto lo Spirito stava dicendo. ecco ci sono tre realtà a proposito di fantasia della carità che dobbiamo mettere in atto in modo particolare in questo periodo e qui ripeto quanto il Presidente di Caritas Italiana ha detto sia alla Presidenza Nazionale come al Consiglio Nazionale e sono praticamente lo Spirito noi siamo animati dallo Spirito siamo in un periodo pasquale dove l'incarnazione del Verbo ciò che dicevo prima è arrivata al suo culmine alla sua espressione fontale attraverso il dono pasquale di Gesù Cristo offerto da cui poi promana tutta la carità dal mistero della Pasquale della sua morte e risurrezione che rimane focalizzato e da cui promana tutta l'esperienza della carità dall'Eucaristia che è la fonte e il sacramento caritatis come ben sappiamo e a cui noi dobbiamo fare costante riferimento ma ecco da questo poi viene dato lo Spirito e noi viviamo dello Spirito del Signore quindi lo Spirito la mente e quindi abbiamo anche l'intelligenza che ci viene data dal Signore perché noi possiamo capire ciò che lo Spirito ci sta dicendo secondo un altro strumento che abbiamo in questo periodo pasquale che è il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo lo Spirito mente ecco è il cuore che poi dice la sensibilità umana Spirito mente e cuore che sono degli strumenti molto molto importanti che ci appartengono non semplicemente la mente perché la mente ci fa fare ci fa fare i conti ricordiamoci l'icona della della moltiplicazione dei panni dei pesci che per noi invece ha un senso più profondo e che è quello della condivisione nella misura in cui nella pastorale ordinaria della pastorale di una parrocchia sappiamo trasmettere questo che la moltiplicazione sia nella misura in cui tutti quanti sappiamo dividere sappiamo condividere sappiamo essere solidali e allora veramente la moltiplicazione si fa non soltanto nella mente perché con la mente ragionando con la mente 200 denari dicono gli apostoli a Gesù non sarebbero sufficienti come non sarebbero sufficienti tutti i soldi che potremmo ipotizzare nella nostra mente per poter far fronte a tutte le necessità noi non potremo mai e in nessun modo dire che quelli lì sarebbero sufficienti ma neanche il doppio sarebbe sufficiente ma nella misura invece in cui si condivide si saprà condividere ecco io credo che la moltiplicazione si fa non perché aumentano le risorse ma perché tutto viene veramente viene veramente condiviso e allora io credo che il ruolo della Caritas dal livello nazionale e quindi il ruolo della Chiesa a livello nazionale a livello diocesano a livello territoriale sia soprattutto quello di trasmettere questa realtà questo grande segreto che va oltre la testimonianza della carità è per noi e anche secondo me molti economisti lo stanno dicendo che è anche la chiave di una di un'interpretazione economica attuale in vista del futuro Papa Francesco questo lo sta dicendo lo sta dicendo in tutti i modi nessuno deve rimanere indietro se dovessimo essere convinti che appena finita la pandemia una volta che auguriamoci tutti quanti possa venire il più presto possibile se scopre un vaccino non possiamo riprendere da dove ci eravamo lasciati ma capire che cosa lo spirito sta dicendo in questo momento se qualcuno è rimasto indietro e lo abbiamo in un certo qual modo recuperato in questo momento non ci sono indietro tutte quelle persone che erano già indietro prima ma c'è l'80% delle persone che sono cadute in una nuova forma di povertà ecco e allora in questa nuova forma di povertà noi dobbiamo cercare di riprendere tutto ad iniziare dagli ultimi e qui e nessuno deve rimanere indietro ecco la comunità territoriale in questo gioca un grande ruolo perché partendo dal basso si può costruire una coscienza quindi il cuore avendo capito quindi la mente e alla luce dello spirito possiamo veramente essere comunità ecclesiale cosa significa in questo caso comunità che è nel territorio un fermento fermento non significa che hai un'evidenza enorme ma che sei invisibile così come il come si chiama il il lievito lo è all'interno della massa ma nella misura in cui è presente saprà operare effettivamente quello che quello che è nel suo dna quello che è nel suo compito altrimenti saremo sempre portati ad essere a rincorrere le esigenze che comunque ci vengono incontro ma saremo sempre sopraffatti questo è un grave pericolo che tutti i giorni corriamo davanti ecco ai grandi problemi la prima la prima reazione è quello di essere spaventati ma non dobbiamo in nessun modo ecco farci atterrire da questo ecco ecco Grazie a tutti.